Il progetto Assistenti Familiari Reti Integrate Montane è rivolto a tutte le famiglie che sono alla ricerca di un assistente familiare, fornendo loro un supporto concreto nell'analizzare il reale bisogno, nel trovare la persona che rispecchia meglio le loro aspettative, ma soprattutto accompagna la famiglia in tutto il percorso che va dalla ricerca della risorsa a dopo che quest'ultima inizia la propria collaborazione presso la famiglia, concretamente aderendo al progetto Assistenti Familiari Reti Integrate Montane e Afrimont, le famiglie potranno soffrire di un aiuto concreto rispetto alla ricerca e alla selezione di un assistente familiare formata, rispetto alla contrattualizzazione della risorsa e soprattutto potranno soffrire dell'aiuto di un operatore specializzato che attraverso delle visite domiciliari e colloqui individuali aiuterà sia l'assistente familiare e sia la famiglia a risolvere eventuali criticità come possono essere per esempio quella di accettazione da parte del familiare dell'aiuto fornito dall'assistente familiare stessa di tipo relazionale o della risoluzione dei problemi pratici legati alla cura e all'assistenza nella quotidianità della persona assistita. Se pertanto siete una famiglia residente nel Canavese e siete alla ricerca di un assistente familiare non esitate a compilare e inoltrare la domanda che è possibile trovare sul sito di Città Metropolitana nello spazio dedicato al progetto Afrimont.